Ciao amici di MyFastbook, oggi per la rubrica tanti auguri facciamo gli auguri a Isabella Allende. Isabella Allende nasce il 2 di agosto del 1942, è una scrittrice cilena statunitense, è conosciuta con dei libri di veramente grande successo tipo La Casa degli Spiriti e La Città delle Bestie ce ne sono tanti altri, ce ne sono stati tanti altri che anche io come voi sicuramente avrete letto e vi saranno rimasti nel cuore. Allora io oggi volevo leggervi un pezzettino del Piano Infinito che è uscito nel 1995 ed è un bellissimo libro dove il protagonista è Gregory Reeves è un gringo che incarna molti difetti e le virtù della nostra società, leggo questa descrizione perché voglio essere precisa con voi in modo che se vi piace poi questo libro di andarlo a prendere e di leggere. Come stavo dicendo, incarna molti difetti e delle virtù della nostra società negli ultimi 50 anni. La vicenda si svolge praticamente dai tempi di Hiroshima fino ai giorni nostri passando appunto nel 68, tempi di questa grande rivoluzione, e la guerra del Vietnam. L'autrice Info affronta temi come l'emarginazione, il razzismo, la politica e i contrasti tra l'opulenza, quindi la ricchezza e la povertà, la miseria delle vale classi, l'evoluzione del concetto della famiglia e l'incessante ricerca di ognuno di noi di amore e di equilibrio interiore. Passo a questa breve lettura del testo, il piano infinito. Adesso che ho superato già tanti dolori e posso leggere il mio destino come una mappa piena di errori, quando non sento nessuna compassione di me stesso e posso passare in rassegna la mia esistenza senza tanti sentimentalismi perché ho trovato una relativa pace, Lamento solo la perdita dell'innocenza, mi manca l'idealismo della gioventù, del tempo in cui esisteva ancora per me una chiara linea divisoria tra il bene e il male e credevo che fosse possibile agire sempre in accordo con principi ammovibili. Credo che in queste parole lei abbia detto tanto, credo che sia una scrittrice da leggere e da apprezzare. Quindi tanti auguri a Isabella Allende per i suoi anni, per il suo compleanno e a presto, ci vediamo con il prossimo compleanno. Ciao!